Consigliere Terone, ti scopri necessario per una volta. Mio re e mia regina, intrattenevo soli i vostri ospiti. Ne sono certo. Prima che tu parli, persiano, sappi che a Sparta ogni uomo, fin anche il messaggero di un re, risponde personalmente delle parole che pronuncia. Dunque, quale messaggio ci porti? Terra e acqua. Tu sei venuto fin qua dalla Persia per terra e acqua. Non essere riservato né stupido, persiano, non puoi permettertelo a Sparta. Perché questa donna osa parlare tra gli uomini? Perché solo le donne spartane partoriscono uomini veri. È meglio camminare. Raffredderemo le nostre lingue. Se la vita del tuo popolo vale di più della tua totale disfatta, ascoltami bene, Leondra. Cerse conquista e controlla tutto quello su cui il suo sguardo si posa. La sua armata è tanto imponente da far tremare la terra al suo passaggio, tanto vasta che per abbeverarsi prosciuga i fiumi. Tutto ciò che il Cerse e il Dio re richiede è questo. Una semplice offerta di terra e acqua. Un segno della sottomissione di Sparta al volere di Cerse. Sottomissione. Questo può essere un problema. Vedi, si mormora che gli Ateniesi si siano già rifiutati. E se quei filosofi, se quegli effeminati hanno trovato tanto coraggio a loro... Dobbiamo essere diplomatici. E ovviamente gli spartani hanno una reputazione da difendere. Scegli le tue prossime parole con attenzione, Leonida. Potrebbero essere le tue ultime, Dare. Sottomissione. Terra e acqua. Tu sei pazzo! Pazzo! Terra e acqua. Oh, ne troverai in grande abbondanza laggiù. Nessuno, né persiano, né greco, minaccia un messaggero. Tu porti le corone e le teste dei re sconfitti fin sulla soglia della mia Sparta. Tu risulti la mia regina. Tu minacci il mio popolo di schiavitù e morte. Oh, ho scelto le mie parole con attenzione, persiano. Forse avresti dovuto fare lo stesso. Questa è blasfemia! Questa è pazzia! Pazzia! Questa è Sparta! Questa è spazzia! 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 Grazie a tutti.